E' stata una gara che mi ha pensato che fosse quasi una finale, che si è da tuttavia la torcia fino all'uno, non voleva proprio lasciarla andare questa qualificazione, è stata molto difficile. E' stata una gara che mi ha fatto sentire fino all'ultimo quando mi ha urlato un po' di nesi. Eh sì, sono un po' di nesi, non sono stato un po' di nesi, non sono stato un po' di nesi. Ormai ci saranno tutte, cosa che aspettate è che questa roba, lupa, la spettacolo, la spettacolo, la spettacolo, anche se comunque vedere una squadra forte qua potrebbe voler dire grande spettacolo, perché Luminetti sta rilostrando di non aver paura assolutamente di nessuno. Sì, sì, sono d'accordo, soprattutto quando è grande, ci vediamo, è la più o meno un po' di nesi.